Si è chiuso al Tribunale di Patti il processo di primo grado scaturito dall'operazione antidroga Pecunia 2, scattata nel settembre del 2013 a Capodorlando. Il collegio giudicante, presidente Maria Pina Lazzara, ha condannato a 7 anni di reclusione, 12.000 euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici uffici, Paolino Sottile, 58 anni, che era stato arrestato in quell'occasione. 3 anni, 8.000 euro di multa e interdizione di 5 anni dai pubblici uffici, invece, la pena inflitta a Marcello Restifo Olivera, originario di Alcare Rifusi e funzionario delle poste di Orlandine. Arretto quindi l'accusa formulata dalla polizia di Capodorlando, che all'epoca condusse l'inchiesta e che si avvaleva dalla collaborazione di una delle vittime, il commerciante Antonino Ballariano, costituitosi parte civile con l'avvocato Ernesto Parisi. Sottile avrebbe costretto due imprenditori, l'altro Econo Mancari, assistito dall'avvocato Nino Todoro, che si erano rivolti a lui per un prestito alla restituzione della somma aggravata di interessi annui del 240%. Attraverso un'intercettazione si scoprì che una delle vittime era stata indirizzata a Sottile, già coinvolto anche in una precedente inchiesta antiusura dal funzionario dell'ufficio postale. In particolare Mersa che nell'aprile del 2011 Ballariano, che versava in gravi difficoltà economiche, si era arrecato all'ufficio postale Paladino chiedendo un prestito al funzionario. Quest'ultimo avrebbe spiegato che non era possibile percorrere vie istituzionali per ottenere il prestito richiesto, ma che avrebbe potuto rivolgersi ad un suo conoscente. Accusa sempre respinta con forza in aula dal funzionario delle poste. I due imputati dovranno provvedere anche al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali. Sottile era difesa dall'avvocato Sandro Pruiti, mentre il restifo è stato assistito dagli avvocati Giosuè Giardina e Giuseppe Lopresti.